Ben ritrovati a tutti e a tutti a questa sesta parte del corso sulle espressioni regolari nella quale affrontiamo il tema del comando find ovvero il comando che ci permette di effettuare delle ricerche di file in una gerarchia di cartelle quindi nel nostro disco del nostro pc per esempio ecco, la solita nota qui, la solita nota che dice che questo non è un trattato su find ma è un video dedicato sia a find ma sempre nell'ottica delle espressioni regolari ciò non toglie che dobbiamo vedere come è composto il comando find prima di integrare le espressioni regolari ed ecco che come di consueto in questi video vediamo prima le opzioni e le forme di base del comando find cioè come si può presentare e utilizzare find normalmente nel nostro terminale quindi cosa si aspetta find come input? si aspetta un pattern ovvero un modello di ricerca e per difetto find si comporta in questo modo ovvero effetto alla ricerca sia nella cartella corrente che in eventuali sottocartelle esistenti partendo dalla cartella corrente la forma più semplice, la versione più semplice del comando è semplicemente find senza nessun parametro e lui praticamente fa un elenco completo di tutto ciò che trova quindi se facciamo semplicemente find vedete che sono nella mia cartella di studio RE qui questa qua la solita cartella non ha sottocartelle quindi stiamo lavorando in un insieme semplice di file e vedete che praticamente find elenca semplicemente tutti i file che trova perché non gli abbiamo dato nessun filtro per scremare eventualmente un file o l'altro la prima riga rappresenta la cartella stessa quindi sapete che il puntino rappresenta la cartella corrente il puntino poi vedete il percorso in questo caso è minimo puntino e barra cercassi un find di un'altra cartella per esempio vediamo un po' home che so, scrivania scrivania faccio così ecco vedete che nella scrivania ho anche delle sottocartelle quindi mi ha elencato numerosi file perché la ricerca come detto la esegue nella cartella corrente e in eventuali sottocartelle vedete quanti ce n'è non ci stanno neanche tutte nella storia del terminale il fatto sta che qui vedete che ogni file è accompagnato ecco questo è un po' più facile da leggere accompagnato da tutto il percorso davanti ecco alla fin fine troviamo il file ma prima ci sono tutti i percorsi comprese il percorso la cartella stessa e poi il contenuto delle cartelle fatto sta che c'è sempre un percorso davanti ecco torniamo pure a lavorare nella nostra cartella di studio delle nostre espressioni regolari così è un po' più ristretto il gruppo degli elementi con i quali abbiamo a che fare naturalmente perché se no non ce la caviamo più con tutti quei file comunque avete capito il principio find fa delle ricerche nei file e nelle cartelle la versione più semplice è quello che abbiamo visto la forma base del comando quindi quella più completa sarebbe find il o i percorsi perché si possono indicare separati da spazi anche più percorsi e quindi io dopo subito dopo find posso indicare una cartella poi spazio un altro un altro un altro e lui fa le ricerche in tutte quelle cartelle e loro eventuali sotto cartelle quindi i percorsi poi le varie opzioni espressioni i pattern eccetera eccetera poi opzionalmente anche delle azioni questo è proprio la forma completa di tutti gli elementi che compongono un comando find completo quindi ben detto uno più percorsi per primo poi le varie opzioni espressioni o pattern che possono essere anche le espressioni regolari qua le varie opzioni disponibili del comando i quali possono anche essere uniti con degli operatori logici che vediamo poi tra un attimo qua sotto i soliti not and or per intenderci eccoci qua quindi possiamo anche dare non solo un'opzione alla volta nel comando find ma possiamo unirne di più assieme nello stesso comando come si fa vediamo velocemente qui il not ovvero il negare l'espressione che poi gli diamo per esempio un tipico esempio è questo facciamo un comando semplicissimo cosa dice questo comando cerca nella cartella corrente quindi percorso puntino ciò che non corrisponde come nome a un v minuscolo e asterisco ovvero escludimi dalla tua ricerca tutti i file che iniziano per v minuscolo praticamente se faccio enter vedete che rispetto a qua sopra dove abbiamo due file con v minuscolo all'inizio eccoli qua questi due qui non li abbiamo più perché li abbiamo esclusi grazie al not l'operazione logica not quindi di negazione quindi escludi not che cosa quelli con il nome che inizia così c'è l'altra forma che il not è meno not oppure il solito oserei dire a questo punto punto esclamativo che sta proprio per la negazione quindi lo stessa forma del comando ma usando il punto esclamativo poi c'è la e quindi la end l'unione di più condizioni quindi facciamo lo stesso esempio perché queste cose già le conosciamo in realtà la end uno dei modi per scrivere la end è semplicemente spaziare una condizione con un'altra con uno spazio uno mettere un meno a un ulteriore modo è meno end che forse è il più esplicito il più chiaro da leggere intendo meno end quindi qui cosa gli dico di fare questo comando find sempre il percorso limitato la cartella corrente cercare tutti i file che hanno il nome che inizia con v minuscolo e che terminano con estensione punto csv facciamo enter vediamo che ci screma tutti i file a parte quello che corrisponde alle condizioni che gli abbiamo dato in end in e quindi una e l'altra devono essere valide l'ultimo operatore logico è naturalmente l'or l'oppure e questo possono essere uniti le espressioni da un meno o come opzione oppure meno or anche qui facciamo un esempietto semplice ancora sempre lavorando sul nome percorso sempre quello gli diciamo elencami trovami tutti i file che iniziano con v minuscolo oppure che abbiano che inizino scusate con il nome g maiuscolo quindi ci mostra tutti quelli che iniziano con v minuscolo e quelli con g maiuscolo ecco quindi avete visto molto semplice è find a tutte queste opzioni che permettono di stabilire varie condizioni per trovare i nostri file nel nostro file system le azioni che è l'ultimo punto che ho messo fra parentesi quadri perché sono opzionali cioè non siamo obbligati come per gli altri le altri moduli le altri componenti del comando file non siamo obbligati ad indicare un'azione possiamo o non possiamo indicarla le azioni appunto quindi le vediamo più avanti in questa scaletta sono opzionali e servono a farci qualcosa sull'insieme dei file trovati ovvero nei comandi che abbiamo usato finora abbiamo creato degli elenchi di file più o meno scremati a seconda delle condizioni però non ci abbiamo fatto niente con questi file li vediamo qui stampati a video grazie a queste azioni possiamo anche farci qualcosa le vedremo appunto più avanti nella scaletta poi le opzioni ecco qua nella parte del comando find dove dico opzioni espressioni pattern eccetera eccetera in quella zona lì find mette a disposizione svariate opzioni per filtrare in modo più o meno raffinato i file fra le quali qui ho messo nella scaletta un bel elenco però ovviamente non le passeremo tutti a provarle ecco perché poi il meccanismo è sempre quello l'importante è il concetto capire a cosa serve l'opzione tra l'altro una di queste opzioni è il meno name nome che agisce sul nome del file è quella che abbiamo già usato qui negli esempi è una di queste opzioni di cui vado a parlare adesso name quindi molto intuitiva una di queste opzioni che potrebbe essere utile interessante da conoscere è amin amin che permette di cercare indicando il tempo qui come parametro n il tempo permette di cercare di cercare i file che sono stati acceduti n minuti fa ovvero una forma tipo questa del comando adesso ovviamente non ci torna nulla questo comando scusate che magari ci metto magari anche il percorso davanti se lavoriamo nella cartella corrente non è obbligatorio mettercelo però ricordatevi sempre che il comando find come forma prevede eventualmente di metterci il percorso qua davanti però possiamo eseguirlo anche senza indicare il percorso e da per per difetto prende la cartella corrente ok amin 15 non mi torna niente perché gli ho detto di cercare i file che sono stati acceduti 15 minuti fa tutti questi file che abbiamo in questa cartella sono più vecchi gli ho acceduti prima di 15 minuti fa quindi non è il caso di trovare qualcosa qui si può variare quindi questo parametro e cercare in un intervallo di tempo i file che sono stati acceduti entro un determinato tempo concretamente non so se stiamo parlando di boh di una cartella dove vengono creati dei file da parte di un programma che viene eseguito dal nostro pc a scadenze regolari non lo so ecco qualsiasi cosa che sappiamo che ogni tanto questa cartella è popolata da nuovi file a scadenze regolari appunto possiamo fare usare parametri opzioni tipo queste per scremare i file che siano entrano una certa finestra temporale ecco per intenderci e il parametro dei minuti non è solo non si può indicare solamente così con le cifre tipo 15 15 minuti 30 30 minuti ma si può anche metterci un segno più o meno davanti alla quantità dei minuti per esempio questo find più 120 120 minuti quindi due ore vuol dire i file che sono stati modificati più di due ore fa e quindi questo è un altro tipo di filtro vedete che più di due ore fa a questo punto mi vengono elencati tutti i file esattamente come se facessi il find senza nessun parametro perché? perché tutti questi file li ho acceduti più e ben più di due ore fa quindi ecco che questo filtro funziona nel senso che vedete che la prova rispetto al 15 minuti secco cioè i file che sono stati acceduti esattamente 15 minuti fa non ne ha trovato neanche uno più di due ore fa li ha trovati tutti e vedete che funzionano così questi fit e potete poi appunto con la scaletta a disposizione potete poi variare questi parametri come volete e provarli vedendoli appunto qui elencati con la spiegazione a fianco il meno sta per meno il più sta per più tempo il meno sta per meno tempo eccetera eccetera e potete naturalmente combinarli anche questi questi parametri tipo dammi tutti i file che sono stati acceduti tra i 10 e i 45 minuti fa posso mettere assieme in end due opzioni a min a min più 10 e a min meno 45 eccetera eccetera ecco simili a questa opzione a min c'è anche la time a time vuol dire acceduti n volte 24 ore fa ovvero n giorni fa perché il parametro di a time è il numero di volte con cui moltiplicare le 24 ore ovvero le giornate praticamente quindi se gli do lo 0 vuol dire nelle ultime 24 ore vuol dire i file acceduti entro l'ultima giornata tra ieri e oggi se metto a time 1 vuol dire un giorno fa quindi 1 per 24 ore se metto più 1 vuol dire almeno due giorni fa quindi oltre il giorno se metto meno 2 meno di due giorni fa se metto più 50 vuol dire file acceduti più di 50 giorni fa 50 per 24 ore fa eccetera eccetera ecco lo schema di utilizzo è simile alla min però si basa su un altro fattore temporale ecco sopra sono i minuti qui sono i 24 ore per il parametro che noi gli diamo andiamo pure avanti poi M qui abbiamo parlato di A min e A time che A sta per access time e access minute ci sono anche le versioni di queste opzioni che vanno sulla modifica e non sulla proprietà di accesso del file ma sulla proprietà di modifica ovvero l'ora è data di modifica del file che è diverso perché se noi guardiamo le proprietà di un file giusto per capire apro la proprietà di questo file vedete che ci sono due proprietà temporali per ogni file salvato in un sistema linux una è l'accesso ed è su questo tempo che agiscono le opzioni A min e A time mentre le opzioni M min ed M time agiscono su questo sulla modifica M sta per modify it e quindi modifica sono questi due le proprietà temporali sulle quali agiscono questi filtri di find naturalmente sono esattamente uguali i meccanismi di funzionamento di M min rispetto A min e di M time rispetto ad A time quindi non ci soffermiamo più di tanto ancora una volta l'invito è di indagare per conto vostro se avete necessità di usare questo tipo di opzioni c'è un'ulteriore opzione che è A newer quindi elenca i file acceduti più di recente rispetto a quando il file indicato è stato modificato che è più complicato spiegarlo a parole che quello che fa effettivamente lo si imposta in questo modo quindi find a newer di un certo file e cosa vuol dire appunto ci elenca tutti i file che io ho acceduto più recentemente sempre nella linea temporale rispetto a quando ho modificato l'ultima volta il file che indico parametro quindi A vuol dire accedere newer più nuovo più di recente rispetto alla modifica che ho fatto questo file quindi questo file l'ho modificato vabbè non so quando è e vuol dire che tutti questi altri file sono stati acceduti successivamente all'ultima modifica di questo file rispettivamente c'è il newer che è il corrispondente per la modifica quindi il newer mi dice la stessa cosa ma sulla proprietà della modifica e non dell'accesso al file quindi usando lo stesso file come parametro find newer mi elenca questi file che sono un po' meno vuol dire che questi file li ho modificati più di recente rispetto all'ultima modifica di questo file ecco quindi fra i quali potete vedere il mod sed che abbiamo usato nei video precedenti non molto tempo fa quindi ieri solo ieri e quindi mod sed è giusto che appaia in questo elenco perché sicuramente l'ho modificato più recentemente che non questo file e così via quindi potete giocare anche voi stesse con tutte queste opzioni e cominciate a capire come find anche lui sia un comando particolarmente potente con dei filtri anche molto atomici granulari per poter scremare esattamente i file che abbiamo bisogno si può giocare in tutte queste opzioni poi ce n'è anche un'opzione che si chiama empty ovvero vuoto elenca i file vuoti eh vabbè elenca i file vuoti non so forse si c'è un file vuoto in questa cartella che è questo 0 byte vuoto dovrebbe elencarlo vediamo un po' find empty ops empty e vedete che giustamente find empty mi crema tutti i file che hanno un contenuto e tiene solo mi evidenzia solo questo filtro il file l'unico che è vuoto ecco questo può essere utile in una ricerca più ampia che non in questa cartella se cerchiamo in tutto il file system con questo comando per esempio otterremo un elenco completo di tutti i file completamente vuoti che abbiamo in questo momento nel nostro disco sul nostro pc ecco giusto per dire con un semplice comando di questo tipo empty poi il name questo l'abbiamo già visto non ripeto gli esempi perché il name l'abbiamo già usato sopra quindi il name opera proprio sul nome del file questo possiamo fare delle ricerche con dei filtri particolari sul nome del file quindi righetta name ci sono anche possibilità di ricerche per la grandezza grandezza del file con l'opzione meno size elenca i file che occupano quel tal spazio di tipo c cioè il parametro può essere indicato con un tipo di quantificatore quindi il c sta per i byte i k i kilobyte l'm i megabyte i g i gigabyte quindi se io uso un comando di questo tipo dico di cercare tutti i file che hanno una grandezza di 248 c che sta per byte quindi piccolini e trovo uno 248 byte eccetera eccetera poi tutti gli altri conseguono si usa la k rispettivamente la m eccetera eccetera anche unendo unendoli assieme sempre anche con l'opzione più o meno come abbiamo già visto sopra questi parametri possono essere anche variati e ampliati con il simbolo più il simbolo meno per esempio cosa gli dico di fare a questo comando cercami tutti i file che sono tra i 20 kilobyte e i 70 kilobyte quindi qui gli do un intervallo quindi più 20 quindi oltre i 20 e meno 70 e non oltre i 70 kilobyte faccio enter me ne trovo due ecco lì qua testo campione inglese che sono 35,1 kilobyte vedete 35,1 kilobyte è sopra i 20 ma è sotto i 70 perfetto eh testo campione ecco il testo campione sono 4,8 kilobyte che sono sotto i 20 quindi è fuori di intervallo oppure che ne so questo qui sono ecco 66,9 kilobyte in effetti viene elencato e poi gli altri non so forse sono tutti sotto sono tutti sotto i i 20 kilobyte e quindi sono scremati ecco vedete che ci può giocare benissimo con tutti questi parametri e addirittura col più e col meno anche creare degli intervalli interessanti di ricerca dei file quindi qui tutto va di conseguenza adesso vi ho mostrato la base e potete appunto anche approfondire per conto vostro e giocare in tutte queste opzioni poi c'è anche un'interessante opzione da non scordare molto utile che è il tipo di di oggetto da cercare perché find se non gli diciamo niente in realtà ci elenca sia cartelle sia file e forse l'abbiamo visto qua sopra non mi ricordo più ecco senza avergli indicato nulla qui vedete che questa in realtà è una cartella non è un file poi arrivano i file contenuti in quella cartella ecco così a occhio non possiamo sapere se questo è un file senza estensione oppure una cartella lo sappiamo perché poi lo capiamo vedendo il seguito dell'elenco però appunto find senza specificarlo agisce fa la ricerca filtra sia cartelle sia i file contenuti nelle cartelle con l'opzione type qua possiamo invece imporgli di dire lavora solo sui file rispettivamente solo sulle cartelle come si fa cercare solo file non cartelle per esempio cambiamo per una volta percorso vado nella cartella software e gli dico type f che sta per file e elencami tutti quelli che hanno il nome con estensione .sh eccoli qua vedete nessuna cartella ma tutti i file voilà e viceversa se vogliamo così possiamo anche dirgli elencami tutte le cartelle ma lascia perdere i file come si fa con la D di directory type D che abbiano il nome P maiuscolo R minuscolo che iniziano con quel nome lì le cartelle quindi e vedete che c'è una cartella proprio che inizia con PR e non mi ha elencato nessun file ma solo la cartella quindi possiamo stabilire dove fare agire find in quale insieme nelle cartelle o nei file specificatamente oppure senza indicarlo possiamo dirgli di lavorare su entrambi ecco che iniziano con